All'Aragona di Vasto va in scena in match che vede Cattolica opposto alla Vastese. I cattolichini, dopo il primo urat di sette giorni prima, schierano nell'undici iniziale l'unica novità. Il solo Bernardi è al posto dell'acciaccato stallone. La Vastese manda in campo l'ultimo arrivato di Filippo. Dopo un quarto d'ora di studio sono gli ospiti ad alzare la voce. Rizzitelli riceve palla al limite dell'area di rigore e lascia partire un tiro di facile presa per Bardini. La replica della Vastese arriva al minuto 24. Alonzi porta spasso pallone avversario, tiro a giro con Aglietti, bravo nell'allungo. Lo stesso Alonzi, due giri di lancette dopo, pennella al centro, ma Ravanelli sotto misura alza la mira. Lo stesso Ravanelli è il protagonista poco dopo con questa conclusione che chiama la presa Aglietti. L'Avastese, in chiusura di prima fase di gioco, deve rinunciare ad esposito. La ripresa è da ritmi maggiori, l'ex Francavilla Palumbo sfiora la marcatura. La capabilità dei padoni di casa viene premiata quando, da questo attraversone Aglietti, viene forse disturbato nell'area spinta. Il pallone rimane vivo nell'area piccola con l'inserimento puntuale e preciso di Francesco Esposito, che sbrocca così la situazione. Continua a premere sull'acceleratore alla Vastese. Alonzi in tuffo di testa non inquadra lo specchio della porta. Momenti di tensione quando Pompei e Di Renzo si scontrano involontariamente. Ad avere la peggio, il difensore è costretto a lasciare il campo in ambulanza. Per lui si teme la frattura del setto nasale. Finale con un'azione da una parte e dall'altra. Francesco Esposito chiama la respinta di piede l'ottimo Aglietti. Mentre dall'altra parte Gasperoni trova il pareggio con un sinistro a giro che bacia prima il palo e poi si infila in fondo al sacco. Ma al novantunesimo quando il Cattolica pensa al pareggio di Filippo, l'ultimo arrivato in casa bianco-rossa, svetta di testa dall'angolo trovando così i gordi al soppasso per il definitivo 2-1 che sa tanto di beffa per il Cattolica che per poco rischia di subire al novantatresimo anche il Tris con questa incursione di Dos Santos che termina sul fondo. 2-1 il finale.